Consuntivo bocciato, preventivo, in via di definizione. A comiso la difficile situazione dell'ente ruota attorno al bilancio di previsione. Attualmente all'esame del commissario ad acta nominato dalla Regione, Domenico Mastrolembo, che ha preso in mano il bilancio di previsione ed ha recepito alcuni dei rilievi dei revisori dei conti. Mastrolembo ha anche chiesto ai revisori di fare chiarezza sulla reale situazione di abitore dell'ente e sull'ammontare complessivo. Si tratta per la quasi totalità di debiti che l'attuale amministrazione ha ereditato dalla precedente gestione amministrativa e che ora mette in difficoltà l'ente che non riesce a far fronte a tutte le spese attuali. I revisori dei conti hanno comunque raccomandato di mantenere gli aumenti previsti di acqua e tassa sui rifiuti. In caso contrario, l'ente non sarebbe più in grado di sobbarcarsi i costi di gestione. Ora il nuovo bilancio, appena pronto, sarà portato all'esame del Consiglio. Qui i consiglieri di opposizione hanno la maggioranza ed hanno quindi la possibilità di fare le scelte che vorranno per programmare la gestione economica. Tutto questo però è in qualche modo già viziato. Siamo alla fine dell'anno e quasi tutte le voci di uscita sono già coperte. Intanto, dopo l'ennesima bocciatura del conto consuntivo, si attendono a nuova nomina della Regione per il commissario straordinario Raitano. Sarà lui a dover prendere in mano la bozza da lui predisposta per il Consuntivo 2010 ed ammettere il sigillo per l'approvazione definitiva. In attesa del consuntivo, il Comune continua a rimanere senza soldi perché la terza rata dello Stato è bloccata.